Cari amici, andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della Coloca della Storia. Un po' di uscire ho impegnato una ricerca, perché voglio un po' mettere a fuoco una, dire quel che va detto in nome della verità e su delle fake news che circolano nel web. E che attribuiscono, diciamo così, alla Madonna, alla Cina della Pace, l'invito a non vaccinarsi. O addirittura attribuiscono ai veggenti in generale, o a quel veggente delle dichiarazioni contrarie alla vaccinazione. Ora, tanto mettere le cose in chiaro, la Madonna ha mai detto nulla riguardo, i veggenti hanno mai detto nulla riguardo, quindi queste fake news che circolano non riguardano, non riguardano la Madonna, i veggenti sono personaggi, ovviamente che cercano di ingannare, perché di fatto cercano di ingannare, attribuendo alla Madonna ai veggenti cose che hanno mai detto. Questo va detto con molta chiarezza, quindi questo lo posso dire con tranquillità, perché sui messaggi della Madonna, questo è certo che la Madonna ha mai fatto nessun riferimento al vaccino, ma neanche alla pandemia, in senso sanitario, insomma, anche se la mia parriera, la pandemia va considerata comunque, nella prospettiva della fede, come un tempo di prova. Ma la Madonna ha mai parlato di virus, mai parlato di pandemie, mai parlato di vaccini, ma neanche ha fatto allusione. Per quanto riguarda i veggenti, a questo riguardo possiamo dire, infatti non esiste nessun filmato che dica che il vaccino ha detto questo, che il vaccino ha detto quello, sono estremamente cauti nel parlare, estremamente misurati, estremamente responsabili. Poi ovviamente non dimentichiamo che la vaccinazione è una scelta personale, e quindi è inutile che mi scriviate dicendo ma i veggenti sono vaccinati o non si sono vaccinati. Io ho una domanda che a loro non l'ho mai fatta e neanche mi importa di sapere se sono vaccinati, se si sono vaccinati o non si sono vaccinati, non mi interessa. Non mi interessa perché è una cosa che riguarda loro e il loro medico, se voglio, ma non riguarda certamente loro con la Madonna. Cioè il fatto che un veggente si vaccini o non si vaccini è una cosa sua personale come uomo, come donna, come cittadino, e quindi non riguarda il suo rapporto con la Madonna, non riguarda il fatto che lui sia veggente o non veggente. D'altra parte io, scusate, non credo anche io di essere un Mariano come tutti gli altri, e non solo mi sono vaccinato, ma mi sono pure iscritto alla terza vaccinazione con ciò. Io mi vaccino perché ritengo che alla mia età uno che non si vaccina rischia di chiudere il sipario in quanto è quadrotto, è per colpa sua, e quindi, ma io però rispetto quelli che non si vaccinano, non avete mai sentito me criticare uno che decide in coscienza di non vaccinarsi. Ma non tiri in ballo la Madonna, non tirate in ballo la Madonna per cortesia che non c'entra. Uno si assume le sue responsabilità e abbia il coraggio di agire in prima persona. Allora, questa dunque è una cosa, quindi tutto quello che circola a riguardo, diciamo che la Madonna ha detto, cioè la Madonna non ha detto mai nulla sulla vaccinazione, non ha detto mai nulla sulla pandemia, anche se a mio parere la pandemia va considerata comunque una prova e va vista nella luce della storia della salvezza, perché tutta la storia umana è la storia della salvezza, non dimentichiamolo. E quindi, non tirate fuori che i veicenti hanno detto, perché hanno detto proprio niente. E comunque anche se avessero detto, parlando personalmente con questo o con quello, sono opinioni personali lecite, mica uno decide per conto suo che deve fare, per sé e per la sua famiglia, insomma, quindi questa storia deve finire, perché non è una cosa seria. Certe persone che sono responsabili di queste notizie sballate e manipolate, devono farci un esame di coscienza, perché non si può, diciamo, usare il fatto di essere conosciuti o la propria, diciamo, esposizione nei mass media per poi influenzare gli altri con affermazioni assolutamente inventate. Allora, questo è, tanto per chiarire la questione, per me la questione è già risolta così, cioè la Madonna ha detto che non bisogna vaccinarsi, è una fake news, è una falsità, è una cosa vergognosa, eppure molte persone hanno bevuto questa fake news perché evidentemente faceva comodo a loro crederci, perché è una persona seria, le valuta le cose prima di crederci. Secondo, non mi risulta che nessun vicino abbia fatto dichiarazioni riguardo alla vaccinazione, anzi sono esemplari nella, diciamo così, nella discrezione e nella prudenza a cui si muovono e parlano, e invece sono, casomai, personalità dell'entourage che si lanciano in, come si dice, cercano visibilità, quando farebbero meglio a cercare un po' di nascondimento e farebbero meglio a parlare il meno possibile. Allora, vediamo, certo, se uno la verità, uno la può dire esponendosi, ma esporsi, diciamo, inventando cose, questa è una cosa imperdonabile. Allora, dunque, però la questione va esaminata a fondo. Cioè, esco dall'ambito delle chiacchiere, perché quello che vi ho accennato è l'ambito delle chiacchiere, delle cosiddette fake news, e invece entriamo vicino in un ambito di riflessione teologica molto più seria. E cioè, prima di tutto va detto che la Madonna non ha mai parlato della pandemia. Il fatto che la Madonna non aveva parlato della pandemia, cioè non ha mai parlato del virus, non ha mai fatto allusioni alla pandemia. E questo non significa che la pandemia, diciamo, non abbia un significato. Difatti, la Madonna, proprio nel mese di luglio del 2019, ricordate, il 25 luglio, vi ha detto che le prove arriveranno, voi non sarete forti, Satana regnerà, cioè il peccato regnerà, e se sarete miei vincerete. Quindi, poi, questo era luglio, sappiamo che a dicembre è scoppiata la pandemia. In Cina poi si è diffusa in tutto il mondo. Noi, quale sia l'origine della pandemia, non lo sappiamo. All'inizio ci hanno detto che veniva dal mercato dei pesci di Wuhan. Poi ci è saputo che proprio lì a Wuhan c'era un laboratorio militare, che lavora sui virus. Poi ci è saputo che questi laboratori militari ci sono un po' in tante parti del mondo e che lavorano per far sì che i virus vengano potenziati. Sono notizie che si butte fuori man mano e quindi, anche se per il momento rimane sempre in piedi l'ipotesi che il virus venga dalla natura, perché è la Cina che lo sostiene, in realtà l'opinione pubblica mondiale ormai si orienta sul fatto che da qualche laboratorio militare questo virus che era in qualche modo, diciamo così, artificialmente programmato è fuori uscito o è uscito o l'hanno fatto uscire. Si dice di tutto, ma comunque non si può escludere che la pandemia abbia avuto origini, diciamo, abbia responsabilità. Cioè si è scoppiata perché non si è osservata quelle disposizioni che sono state date comunque a suo tempo e che comunque avevano fatto sì che quasi tutti i paesi del mondo, eccetto la Cina, avrebbero firmato a Ginevra un protocollo col quale si vietavano gli esperimenti nei vari laboratori. La Cina non l'ha firmato, ha fatto un'adesione orale, però comunque sia questa ipotesi che il virus possa avere delle responsabilità umane non si può assolutamente escludere al momento attuale. Perché dico questo? Perché ovviamente il fatto che il virus sia dovuto perlomeno all'imprudenza umana sta a indicare che c'è un'origine, come si dice, un'origine maligna, cioè si stavano facendo armi da usare per guerre future. Ma questo ci sta facendo in varie parti del mondo e tutto questo, cari amici, è chiaro che rientra nell'ottica diciamo dalla presenza della Regia della Pace che è qui proprio per evitare che il mondo venga vissuto dalla guerra. Ad ogni modo, Dio ha permesso questa pandemia e noi dobbiamo chiederci perché l'ha permessa. Dio l'ha permessa, come si sa, Dio permette un male perché se ne possa poi cogliere un bene. Questo bene che si poteva cogliere dalla pandemia lo sappiamo qual è, cioè in poche parole l'umanità che si credeva padrone del mondo improvvisamente si è scoperta debole di fronte a un virus, si è scoperta debole di fronte alla natura e è stata chiamata a fare un mea colpa, un atto di umiltà che poi non l'ha fatto. non l'ha fatto e è andato avanti sulla via della negazione di Dio e è andato avanti sulla via del rifiuto della fede, del rifiuto della croce e è andato avanti sulla via di creare un mondo nuovo senza Dio. Quindi questa, diciamo, occasione che Dio ci ha lasciato, ci ha dato per convertirci, per considerare quanto siamo deboli lontani da lui e quanto sia pericoloso seguire il menzognero e Dio ci ha fatto l'occasione. Noi l'abbiamo sfruttata e il futuro sarà quello che sappiamo, cioè sarà un futuro di prove. Quindi, cari amici, non escludo affatto che la pandemia rientri nella teologia della storia come un tempo che la Madonna ci ha dato per riflettere sulla strada che stiamo percorrendo che è la strada della rovina, la via della rovina, la via dell'autodistruzione, cari amici. Però la Madonna sulla pandemia in quanto tale non è intervenuta, non ha nominata, ma è nominato il virus, però è una madre che ha visto il suo popolo sofferente, ci ha invitato alla preghiera, ci ha invitato alla conversione, ci ha detto che se avessimo pregato e se si fossimo convertiti le nostre preghiere sarebbero state ascoltate. Insomma, ci ha esortato ad aver paura del futuro come madre ci ha in qualche modo sorretto e incoraggiato e sicuramente tanta sofferenza forse ha aperto tanti cuori che prima erano chiusi e poi il conto lo fa Dio con le anime in cielo, ovviamente. Però il fatto che la Madonna si sia chinata maternamente sulla pandemia, sui nostri dolori e sulle nostre preghiere non significa che la Madonna in qualche modo, diciamo così, abbia detto o abbia manifestato qualcosa sulla pandemia in quanto tale, no. Invece, quello che sorprende tutti quelli che, diciamo così, seguono Međugorje fin dall'inizio è il fatto che la Madonna proprio da quel 19 luglio del... non dimenticate che il mese di luglio è importante Međugorje perché è proprio nel mese di luglio del 1991 che la Madonna praticamente annunciò la guerra in Bosnia disse e già crepitavano i cannoni a Mostar e la Madonna in collovazione disse che quanto sarebbe durata questa guerra sarebbe molto dipeso dalle nostre preghiere e questo lo disse nel luglio del 2019 e quella guerra durò 5 anni sappiamo che fece 200.000 morti su una popolazione di 1.800.000 abitanti, insomma anzi 400.000 morti quindi fu una guerra in un certo senso tremenda con le conseguenze che sappiamo comunque circoscritta perché comunque la Madonna riuscì a evitare proprio la distruzione del mondo con l'uso delle armi atomiche che era previsto era previsto perché il regime comunista russo piuttosto che vedere il crodo del comunismo era disposto a provocare una guerra di far di tento a un colpo di Stato ma non le riuscì allora nel medesimo il mese di luglio del 2019 la Madonna ha annunciato il tempo delle prove chiaramente quindi la pandemia io l'ho sempre considerata se vi ricordate un'ouverture al tempo delle prove una occasione che Dio ci ha dato per ripensare i progetti che noi stiamo realizzando che sono progetti di un mondo nuovo senza Dio e quindi il tempo della pandemia diventa un tempo di chiamata alla conversione alla preghiera che è continuo in tutti i messaggi di questi di questi due anni allora quindi la Madonna non ha manifestato preoccupazioni per la pandemia cioè non ha manifestato preoccupazioni per la pandemia e non ha mai manifestato preoccupazioni per il vaccino o la vaccinazione questo è chiarissimo nei messaggi nei messaggi è chiarissimo che la Madonna ha benate preoccupazioni quali sono le preoccupazioni della Madonna sono quelle che adesso vi leggo cari amici a partire dal luglio del 2019 così vedete con chiarezza di che cose è preoccupata la Madonna le cui preoccupazioni non sono quelle di certi opinion makers quelli che fanno le opinioni e che diffondono i messaggi di Međugorje secondo cui poi tutta tutti i risalimenti della Madonna sono da finire nel vaccino da proibire secondo loro sono cose veramente ridicole e inaccettabili e credo che il buon senso della gente predarrà allora andiamo a vedere quali sono le preoccupazioni della Madonna e ditemi voi se non è una presa in giro se non è una presa in giro è una irriverenza vergognosa attribuire alla Madonna diciamo preoccupazioni che tutta più posso preoccupare il governo ma non certo il paradiso o il cielo allora siamo andiamo a rivederle tutte queste queste diciamo affermazioni della Madonna e incomincio con quella del 25 aprile del 2019 la Madonna ha detto cioè ti fa vedere come in questi due anni Satana abbia sviluppato abbia espresso tutta la sua forza per impossessarsi del mondo e per regnare su questo mondo quindi la Madonna ci ha presentato questo tempo della pandemia come il tempo in cui Satana regna l'ha detto lei chiaro e tondo e come sta facendo di tutto per impossessarsi dei cuori mediante l'incredulità e l'odio e tutti i messaggi della regia della pace di questo tempo hanno questa preoccupazione cioè Satana che si impossessa dei cuori e li espugna e porta il mondo verso la guerra e verso la distruzione dunque siamo nel 25 aprile del 2019 non permettete dice che il vento dell'odio e dell'inquietudine regni in voi e attorno a voi inquietudine vuol dire come ci ha detto non pace agitazione il diavolo vuole l'inquietudine cioè l'agitazione e il disordine ma voi figlioli siate la gioia di Gesù quindi quello che è Satana vuole è l'inquietudine il disordine l'odio la divisione il tutti contro tutti poi il 17 settembre 2019 questo è un messaggio particolarmente significativo dato a Ivan mediante le vostre preghiere fermate il piano di Satana sull'umanità qual è il piano di Satana sull'umanità che ogni giorno è sempre più lontana da Dio e invece di Dio mette se stessa al primo posto cioè il piano di Satana sull'umanità è l'uomo al posto di Dio in modo tale che Satana possa regnare 25 novembre 2019 la Madonna di cosa è preoccupata è preoccupata perché il mondo è in guerra il mondo è in guerra dice perché i cuori sono pieni di odio e di gelosia 2 marzo 2020 questo è uno degli ultimi messaggi da Tamiriana che ci mostrano come il mondo nuovo senza Dio sia prima di tutto una tenebra di menzogne e quindi un oscuramento della mente e poi ovviamente un inquinamento del cuore mediante l'odio dice portate la luce di mio figlio e squarciate la tenebra che sempre più vuole afferrarvi 18 marzo 2020 la Madonna dice figli miei in momenti di confusione e rinunce dovete solo cercare il volto di mio figlio vivete le sue parole e non abbiate paura andiamo avanti cari amici in questa siluce di messaggi della Madonna che ci indicano le sue preoccupazioni e i nostri pericoli che sono né la pandemia né il vaccino ma sono l'incredulità il peccato l'odio e la guerra l'ho già spiegato cari amici che perfino perfino il riscaldamento globale è più pericoloso della pandemia ma più pericoloso di ambedue sia della pandemia sia del riscaldamento globale è la guerra a cui il mondo si sta preparando e andiamo avanti cari amici in questi messaggi che ci mostrano la pandemia spirituale quella che veramente preoccupa la Madonna altro che vaccino è il peccato da evitare è l'odio è l'odio da evitare è diciamo la menzogna da evitare comprese le fake news 25 marzo 2020 c'è un'annunciazione figlioli permettete che Dio parli al vostro cuore lasciate che Dio parli al vostro cuore perché siete in gravissimo pericolo perché Satana regna e desidera distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale camminate questa è una cosa estremamente seria ripete quello che la Madonna ha già detto il primo 25 gennaio del 1991 quando disse appunto chiamò il suo popolo a nove giorni di digiune e preghiera era l'anno in cui crollò l'Unione Sovietica perché Satana dice voi distruggere la vita la natura e il pianeta su quale vivete adesso vedo la medesima cosa figlioli permettete che Dio parli al vostro cuore perché Satana regna e desidera distruggere le vostre vite e prendete su quale camminate su parole pesantissime poi guardate un po' che descrizione fa la Madonna del nostro tempo di questo tempo di pandemia guardate figlioli prendete la croce fra le mani essa sia per voi di incoraggiamento che l'amore vince sempre in modo particolare adesso che la croce e la fede sono rifiutate questa è la pandemia spirituale grazie alla quale Satana regna e può portare il mondo alla distruzione il rifiuto della fede e della croce qual è la conseguenza ce lo dice ancora nel mese di luglio del 2020 mese di luglio micidiare dice in questo tempo inquieto il diavolo miete le anime per attirarle a sé cari amici questo tempo di agitazione di non pace il diavolo miete le anime per attirarle a sé non ha detto che il diavolo spiegola le anime ha detto che le miete cioè se le porta via quasi tutte e quindi cari amici la Madonna ci dice che se vogliamo avere un futuro dobbiamo incominciare a vivere la nostra conversione personale allora si dice che il male cesserà e la pace regnare i vostri cuori nel mondo come si fa parlo di personaggi che hanno un certo una certa influenza nell'ambito di Međugorje come si fa a dire a dire a trasmettere notizie diciamo così via web invitando la gente a non vaccinarsi perché quello sarebbe diciamo cadere in chissà quale tranello satanico quando la Madonna ci dice che o ci convertiamo personalmente se no non avrete né futuro né pace cioè la Madonna ci ci esorta ci supplica di convertirci e cosa e che messaggio è andato in giro a dire solo se ci convertiamo personalmente il male cesserà la pace regnare i vostri cuori nel mondo nel messaggio del 19 settembre Ivan dice questo ve le leggo questi messaggi perché vedete quali sono le preoccupazioni della Madonna i pericoli e i rimedi non c'è né pandemia né vaccino vi invito a pregare perché satan non vi attiri con la sua arroganza con la sua prepotenza con il suo falso potere il messaggio dalla Ivan il 19 settembre del 2020 e per consolarsi la Madonna il 25 settembre ha detto però Dio vi ama e manda me e manda me per salvare voi e la terra sulla quale vivete cari amici non ha detto la Madonna Dio vi ama e manda me per far sì che voi non vi vaccinate ma smettete con queste stupidaggini per cortesia abbiate rispetto per la madre di Dio 25 ottobre 2020 satan è forte e lotta per attirare a sé quanti più cuori possibile vuole la guerra e vuole l'odio perciò sono con voi così a lungo dov'è il vaccino qua dov'è dov'è il pericolo è il vaccino il pericolo satan è forte lotta per attirare a sé quanti più cuori possibile vuole la guerra e l'odio perciò sono con voi così a lungo cioè è talmente chiara la preoccupazione della Madonna che mi meraviglio mi chiedo come fanno certi personaggi che frequentano meggiore da anni e anni a capovolgere tutto e buttare tutto nel ridicolo della vaccinazione o no come se questo fosse una una scelta chi si vaccina va all'inferno chi non si vaccina va in paradiso ma siamo abbiamo perso il bene dell'intelletto marzo 2021 25 marzo 2021 festa dell'annunciazione il diavolo vuole l'inquietudine e la guerra vuole riempire il vostro cuore di paura per il futuro ma il futuro è Dio 25 giugno 2021 cari amici è il giorno dell'anniversario e dice satana è forte e con i suoi inganni e gli inganni di satana cari miei sono talmente fini che come dire poi poi i vanitosi e i vanaglori oggi ci cascano satana è forte con i suoi inganni vuole portare via quanti più cuori possibili dal mio cuore materno negli ultimi messaggi cari amici quelli di questi ultimi due o tre mesi vi dico solo tre parole per dire qual è la preoccupazione della madonna è per questo mondo che si è perso a questo mondo che è perso ha detto perso vuol dire che è perso per Dio che ha perso la fede che ha perso la strada che sbanda qua e là che è sulla via della rovina che va verso l'autodistruzione a questo mondo voi tendete le mani per metto sulla retta via ha detto che il mondo è perso ha detto che i cuori sono conquistati dall'odio ha detto che siamo diventati pagani ma quando ha detto queste cose la madonna cioè ha detto cuori conquistati dall'odio ha detto mondo perso ha detto pagani l'ha detto in un contesto in cui invita noi a portare i suoi messaggi i suoi messaggi appunto di conversione a queste persone noi dobbiamo portare il messaggio della conversione della preghiera della pace e non della non vaccinazione tacete ma come si può come si può io dico come si può rendere banalizzare i messaggi della madonna in questo modo quindi questo vi dice cari amici tutto quello tutto il panorama che vi ho sviluppato cari amici ci dice esattamente quelle sono le preoccupazioni della madonna ora sia ben chiaro chi può vaccinarsi a fare i suoi non è fino a prova contraria c'è la libertà della vaccinazione insomma e lo stato croato ha reso l'obbligo della vaccinazione in croazia i vescovi i croati sono opposti dicendo no la vaccinazione deve essere libera io mi sono vaccinato rispetto a chi non si vaccina assolutamente questo è fuori discussione ma la madonna non c'entra non ha niente a che fare con i 10 segreti il vaccino non ha niente a che fare con i piani di salvezza della madonna il vaccino è semplicemente uno strumento con cui si combatte il virus ma il virus che teme la madonna è il peccato è l'incredulità è la intolleranza è l'odio è la guerra ma per guerra è quella che incomincia nelle famiglie nella società perfino nella chiesa è quello il virus da combattere quindi le preoccupazioni della madonna sono chiarissime che cosa dovrebbe fare di più e perché le manipolate perché le deviate su problemi che non esistono in cielo detto questo cari amici scusate io poi sono uno che qualche deve dire lo dico e mi assumo le responsabilità d'altra parte è chiaro che il mondo non è certo dei vigliacchi allora volevo dire anche un'altra cosa che va detta perché va detta certo il Papa il Papa è maestro di fede ma non è soltanto maestro di fede il Papa il Papa è anche maestro di morale per chi non lo sapesse il Papa non solo ci deve insegnare cosa credere ma ci deve insegnare anche come dobbiamo moralmente comportarci ed esiste un documento della congregazione produttiva della fede dove viene dove viene analizzata e pesata dal magistero della chiesa la moralità della vaccinazione e gli obblighi morali che comporta quindi non si dica che il Papa non ha autorità in questo campo questo è un campo anche morale come no c'è un documento della chiesa ufficiale del santo ufficio che riguarda la moralità della vaccinazione questa è competenza del magistero della chiesa è un documento approvato dal santo padre e quindi e quindi non si può diciamo come dire cestinarlo perché tanto non è una cosa che riguarda la fede è una cosa che riguarda la morale è il Papa verso di morale e quindi e quindi è dovere di ogni cristiano di ogni cattolico di ogni sacerdote cari amici seguire seguire gli insegnamenti ufficiali della chiesa anche in campo morale ma è possibile che devo richiamare queste cose elementari a chi le dovrebbe sapere ecco cari amici mi sono tirato fuori dalle scarpe tutti i sassolini che c'erano ho detto quel che dovevo dire sono sicuro di aver fatto un servizio alla verità e alla serietà dell'apparizione di Međugorje ripeto la Madonna non ha mai detto nulla sui vaccini ma neanche sulla pandemia i veggenti si comportano in un modo esemplare non dicono mai cose che non devono dire o che comunque è l'anturasi intorno è l'anturasi intorno che dovrebbe darsi una regolata e non far dire quello che essi non dicono e non attribuire le loro parole che non hanno mai detto e comunque sia anche per loro sono cittadini vale il principio che la vaginazione libera uno la può fare o non la può fare io l'ho fatta l'ho pure detto a qualche vecchia che l'ho fatta non mi ha detto mica che ho fatto male tutt'altro anzi a uno di loro ho detto oi mi sono vaccinato allora puoi venire tranquillamente qui a Meggiugorie allora quindi come vedete c'è c'è una vaccinazione su cui bisognava gettare dei secchi d'acqua e io l'ho fatto perché era ora perché è troppo è troppo è ora di finirla e con questo cari amici io ho quasi terminato la mia lettura cristiana della cronaca della storia e volevo soffermarmi un momento diciamo sulla sulla situazione diciamo della radio in questi tempi di fatica che facciamo a portarla avanti però soprattutto volevo cogliere l'occasione che ci sono ancora quelli che c'è ancora qualche minuto a disposizione volevo cogliere l'occasione per dire un ringraziamento immenso a tutte queste a tutte quelle persone che in questi tempi comunque nei quali insomma la situazione delle famiglie è diventata più pesante c'è un aumento di tutto che riguarda purtroppo cose che utilizziamo ogni giorno come la benzina come il gas come tante altre cose e tutte realtà che corrono gli stipendi sappiamo che le famiglie a disagio sono enormemente aumentate in quest'ultimo anno e ciononostante ovviamente anche noi abbiamo risentito non poco però devo dire che commuove l'affetto l'attaccamento dei nostri ascoltatori a radomaria e se voi stessi vedete la clessidra ogni giorno per quanto riguarda le radomaria in Africa che soffrono molto più di noi e molto più della nostra ovviamente vedete come la clessidra aumenta ci sono proprio dei cuori veramente dei cuori che hanno una generosità incredibile la cosa che mi fa tanto piacere è che vedo anche molto offerte di sacerdoti soprattutto per le missioni insomma sono cose che incoraggiano tanto e volevo spendere due parole di ringraziamento ma anche dirvi cari amici che abbiamo una preoccupazione che è questa che con la diminuzione delle materie prime che c'è nel mondo con l'aumento dei prezzi e anche i ripetitori e tutto il materiale per far funzionare una radio è raddoppiato nei prezzi è una cosa incredibile e purtroppo è così e però faremo fronte alla situazione come già in passato abbiamo avuto momenti difficili abbiamo fatto fronte insomma poi la madonna conosce il portafoglio di tutti quindi conosce il portafoglio di tutti e quindi magari ispira pensieri diciamo alle persone che hanno più disponibilità per far fronte a questa che è una vera e propria un passaggio di emergenza anche perché c'è la convinzione che purtroppo l'aumento dei prezzi durerà ancora e quindi un grazie di tutto cuore cari amici per per questo che state facendo adesso ci avviamo verso Natale faremo la mariatone questo mese di dicembre e cerchiamo di come dire di dare il massimo io sono sempre del parere che se noi siamo fedeli all'insegnamento della Madonna se siamo fedeli sui messaggi se non abbiamo paura se non facciamo calcoli ma siamo coraggiosi siamo chiari io sono convinto che la Madonna ci premia che la Madonna ci aiuta come ci ha sempre fatto in questi in questi tutti questi anni quindi sono mai 34 anni in cui la Madonna ci sta seguendo ci sta aiutando e ci sta sostenendo grazie di cuore cari amici dunque per questo volevo terminare cari amici con una brevissima presentazione del nuovo libro che incomincieremo a lanciare in radio da lunedì prossimo in questa settimana finiamo il libro precedente il prossimo libro che ha il titolo bellissimo come immagine una copertina bellissima intitolato la meraviglia di esistere cari amici è un libro che vuol fare scoprire il senso della vita proprio in un momento in cui diciamo si è più disponibili a imprecare contro la vita e poi nell'ambito diciamo dell'oscurità in cui viviamo non ne vediamo più la bellezza e la grandezza quando invece nella luce della fede la vita è meravigliosa è veramente un'avventura meravigliosa però da vivere intensamente nella luce dell'eternità nella luce di Dio nel rapporto d'amore con Dio cari amici anche fraticando soffrendo testimoniando anche donando la vita perché è talmente grande l'amore di Dio che tutto ciò anche facessimo tutto il possibile mai riusciremo a colmare la distanza che c'è però cari amici non è che Dio ci chieda chissà che cosa ci chieda meno una goccia d'amore ma sincera del nostro cuore con questo cari amici ho terminato vi ricordo sempre cari amici il blog che abbiamo lanciato che sta amando molto bene abbiamo lanciato il mio blog il blog di Padre Livio è stato lanciato il 25 ottobre nel quale vi do un pensiero ogni giorno e c'è tutto il resto poi però un pensiero sul cammino spirituale lo trovate ogni giorno nuovo dovete solo entrare nel blog su google scrivete blog di Padre Livio oppure scrivete entrate nel sito nostro di internet raddomaria.it e lì cliccate lo cliccate e entrate nel blog e così potete leggere intanto vedete il nostro meraviglioso albero di Natale che abbiamo preparato nella saletta tutto fatto da libri un copolavoro meraviglioso e potete trovare anche il pensiero di oggi è un impegno che mi sono preso ogni giorno però tutto ciò che i social cioè la comunicazione ci mette a disposizione noi dobbiamo saperlo usare per salvare le anime cari amici la meraviglia di esistere questo nuovo libro ha come scopo di aiutare aiutare noi stessi specialmente i più giovani a scoprire la meraviglia di esistere cioè la bellezza la grandezza della vita come ci appare la luce della fede e quindi un libro sulle domande sul senso della vita e questo ci accompagnerà nelle catechesi in questo tempo di avvento è un ottimo libro anche per diciamo come regalo di natale ed è intitolato appunto la meraviglia di esistere le domande sul senso della vita su Garco Edizioni questo mio libro cari amici lo potete ordinare qui a Radomaria all'ufficio informazioni 031 610 600 via email info.ita radomaria.org oppure sul sito radomaria.it cliccate catalogo noi ve lo spediamo cari amici con una bellissima portachiave che ha l'immagine della regia della pace davanti e di dietro c'è inciso Radio Maria lo trovate anche già in questa settimana nelle librerie e negli store che ve lo mandano a casa ovviamente senza il gadget che poi è proprio questo bellissimo portachiave con l'immagine della regia della pace bene carissimi questo dunque per quanto riguarda il nuovo libro la meraviglia di esistere le domande sul senso della vita di esistere la di esistere di esistere Grazie a tutti.